È fuori pericolo il bimbo di 7 anni colpito da meningite da meningococco B. La tanto attesa buona notizia arriva dall'ospedale pediatrico Mayer di Firenze dove il piccolo è ricoverato. Il bambino sta infatti rispondendo bene alle cure e così lentamente sta migliorando. I primi segnali positivi erano già arrivati nei giorni scorsi, oggi la conferma che il bimbo è finalmente fuori pericolo di vita. La prognosi resta comunque riservata e per il momento il bimbo resta ricoverato. Il piccolo, residente in Val D'Arno, una settimana fa era stato accompagnato dalla mamma al pronto soccorso dell'ospedale San Donato di Arezzo. Aveva evidenti sintomi della patologia, febbre alta, diarrea e ipoattività. Questi sono dei sintomi di allarme che devono far pensare anche alla possibilità di una forma di meningite, quindi di un'infezione che potenzialmente può essere molto grave. Il personale sanitario, dopo i primi accertamenti, aveva valutato il trasferimento al Meyer con una diagnosi di meningite. Il piccolo sarebbe stato vaccinato. Comunque sì, a prescindere dal fatto che potesse essere o meno vaccinato, sappiamo che ci possono essere dei casi di meningite anche in soggetti vaccinati. Perché comunque in rari casi la risposta anticorpale può essere non sufficiente. Direi che la vaccinazione, nel caso specifico antimeningococcica, sia B che C, per le popolazioni verso cui è raccomandata, è fondamentale. Non solo e esclusivamente per il soggetto, quindi per il singolo individuo, ma anche per la popolazione generale. Perché comunque noi vaccinando sempre più persone dove è raccomandata o perché per età o perché hanno fattori di rischio per cui è necessaria questa vaccinazione, proteggiamo la popolazione. Il Dipartimento di Prevenzione dell'Asla Toscana Sud-Est aveva subito attivato le procedure di profilassi per tutti coloro che erano stati a stretto contatto con il bambino in tutta una cinquantina di persone.